bella ragazzi bentorni sul canale di Grananas e questa è la partita la partita dei partiti, questa è la partita più importante della stagione perché se vinciamo questa partita passiamo se non vinciamo e chi c'ha lui? ne stiamo c'hai tu c'ha c'hai tu c'ha lù 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 come cazzo io lukaku noi però questa partita ce la mettiamo tutta anche se ce la stiamo mettendo tutta in tutte le partite però è sicuramente male dai eh dai barbo dai barbo dai barbo FA BARBO oddio mio perché non ce l'ho oh ho fischiato già c'è il sappillo ma non mi fa cambiare il tiratore no, tiene spinto, tiene spinto no si si mi è con fuori in ah dai che cazzo un cadenaggio cioè ha segnato ma che cazzo sta da dire ma come cazzo fa a segnare da là ma come fa io dai non è possibile capito la differenza una spara a curva e l'altro segna ma porco tuo oh blocco pick and roll è passato è passato è passato pensavo che andava qua che segno dovevo tutto io non mi dico sempre che sto a questa voce perchè sto a morte di coda quindi non so pensa che è cazzo qua siiii vabbè fanno i culo pure a noi culo a noi ah ma è barzagli ah ma è barzagli ah ma è barzagli ma guarda che barzagli mi attira ah bello guardami dai tratte moggino clementino mamma mia di barbo no no cazzo ti ha battuto dai eh bazzare non stai è buona dove sta non lo so non l'apeto bello è un arbitro eh ah no l'ho visto adesso non ho capito oggi se la mette in cesta si è messo in giallo oh 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 fai eh no oddio c'era il vantaggio da con il cene di prima da no dibuola no guarda la livello bello 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 piavano no no codine ma capito ma d'unico no ma che continua le renderte mi vede male mi vede poco male la prova batteremo nooo che cazzo ha preso la schiena di via che cazzo serve guardate eh guarda ma porco due ma sto ritardati davvero ti bandi io guardo via bella mamma mia perfetta dai o qualunque c'è dove andare su quel pallone che cazzo è una lotta fino all'ultimo ella insomma per chi cazzo dalla bella non puoi dire ogni volta così ma che cazzo c'hai al posto nei piedi ogni volta oh vasti cazzi Bruno vasti cazzi vai 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 bella mamma mia 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 mamma bi che cazzo perchè perchè edaan senza senso veramente Inutile, hai fatto una cosa inutile Io? Sì, che che era quel tiro? Mi l'ho tirato da solo Ma che... hai fatto un tiro del merda, poi andava avanti Lo so, però non correva più Ho capito Non c'è che... Tira la bomba Sta a mezzi Bello, no, come cazzo l'ha presa, oh Bello Eh, sto cazzo Tant'arrivi a lui sempre Ma è una volta che arriviamo noi Mannaggia il papato Via Eh, questo è come spazzare proprio Ti ho insegnato alla scovagare, insomma Dai, ma c'ho palla, ma No, è fallo per lui Sì No, vabbè, ma come sta io? No, ma... Ma che è? Ma è stato le comiche Eh, eh Bello Vi abbiani, vi abbiani Eh no, eh Eh, non c'è sto, però, eh Oh, cazzo Paglia Guarda se mi seleziono quel pezzo di merda di bambino subito ci arriva su mongoloide ancora che cazzo era no c'è un fatto che cazzo sta succedendo 78 mamma mia stoico ma vaffanculo un po' ma adesso non è il momento il cristo il cristo il cristo ma vaffanculo ma mi sono proprio rotto il cazzo mi sono rotto cioè sei andati a perdere ma vince tu sei con di pasta ma vince vinci va vinci va vaffanculo va sto gioco mi comincia a far cagare mi cominciamo a far cagare cioè ma che modo è oh ma che modo è partita dominata porco due oh vabbè rimaniamo qui dopo aver fatto fare la bellezza di 5 gol in 3 ti importa rimaniamo qui rimaniamo qui ma come cazzo ha fatto e niente ragazzi giudicate voi porca puttana giudicate voi comunque adesso è ora di fare un referendum volete che continuiamo in due o volete che giochiamo un tempo per uno come sempre perché in due soffriamo un tempo per uno può essere che vinciamo la grande fateci sapere qua sotto support vecchi trapani hashtag bello yeah